Quanto è la distanza tra la porta, la linea di ferro, ok, e il dischetto delle vite? Sì, guardate! 11 metri! Sì! Le domande a tutti, eh! Vai via a tutti! Occhio perché qui volano i rossi, mi sa! La tua spazia è felice! La tua spazia è che una volta sui, mi sa! Occhio perché il nostro corso corso... La tua spazia è vero! Lo che è una stessa domanda! La tua spazia è vero! Quanto è la tua spazia! E non lo che è vero! Reviso! Grazie a tutti.